Ah, meno male, pensavo che mi volevo immaginare uno schiaffo da boffa. Allora, dai facciamo pure questa con la Ferrari. Vabbè, dai, è andata a due all'ora. Ah, penalità, è giusto. Dieci secondi, vabbè, non aumentiamo la sfida, dai. Pronto, amore. Je suis entrain d'enregistrer en plus. Uè, je te promets. Uè, si tu veux, d'accord. Ciao, amore. Uè, ciao. Ah, uè, je m'amuse là. Ciao, amore. Ciao. Primo posto ho conquistato, abbastanza facilmente e in modo molto irruento da parte mia, lo ammetto. Ora però dobbiamo mettere dieci secondi. Sarà difficile, eh. Oh, a livello di performance di... Se tenuta in strada, la Ferrari sicuramente è superiore alla Lotus, eh. Di quell'anno. Quindi in realtà il trucco... Non sarebbe tanto far urlare il motore. Ma trovare la massima trazione possibile. 10-8-74, ho fatto quell'errore. 10-8-74, ho fatto quell'errore. Mi sa che me la porta a casa. Mi sa che me la porta a casa. Se... Come secondo? E vabbè, paziente. La Ferrari sarà soddisfatta delle prestazioni di oggi. Che gara fantastica, ragazzi. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.